E' un video eh, è un video da... è un video per i freddi E' bravo Quella maschera di... quella poison, quella della rosa E' un incrocio tra una rale incazzata e mistica di X-Men Mistica, bravo E' un incrocio tra una rale incazzata E' chi è incrociata? Arale Ah bello, questo è... Immortale Immortale Bella la maschera Immortale Ah ecco, questa ti ha tirato fuori una volta E' carina, vedi Bella quella, ma la devi... la compratta E' un ragazzo specializzato Bellissimo Bellissimo Facciamo il primo piano Aspetta E' un'altra rincazzata Che era questa? Che era la rincazzata che era? Arale Arale E' un'altra rincazzata che era un'altra rincazzata E' un'altra rincazzata che era un'altra rincazzata